Secondo quanto riportato recentemente dal Commissario Legnini, i dati sono confortanti, ciò significa che stiamo recuperando il ritardo accumulato precedentemente e questo in virtù di norme molto decise che abbiamo approvato e che poi il Commissario ha trasformato in ordinanze. Voglio ricordare la norma capofila delle semplificazioni che fu la norma inserita nel Decreto Sisma a fine 2019 e con l'autocertificazione che ha ridotto enormemente il carico sugli uffici. Da lì è iniziato un percorso importante che poi ha prodotto delle ordinanze efficaci, è evidente che la mole di interventi da ricostruire sono tantissimi e che quindi questa accelerazione ormai misurabile con i dati ancora non si vede in termini materiali. Accanto alla ricostruzione materiale noi stiamo lavorando anche sulla ricostruzione sociale, economica e il CIS di cui oggi parliamo è uno strumento potente di 160 milioni ottenuti grazie a un emendamento da me sottoscritto, emendamento del Partito Democratico sostenuto dall'allora Ministro Provenzano che interviene proprio per la rinascita dei territori. Se a questo aggiungiamo il PNRR che prevede 1 miliardo 780 milioni per i terremoti 2009 e 2016 che si sovrappongono nell'area Terramana e Aquilana e capiamo bene che non ci mancano i fondi, adesso ci serve la progettualità e la governance. Il CIS è lo strumento che serve ad andare oltre la ricostruzione, noi abbiamo bisogno di ricostruire ma abbiamo soprattutto bisogno di far rinascere questi territori creando opportunità di lavoro per le imprese, per i giovani, per le donne che non devono essere costretti a emigrare. Il CIS serve a questo, a realizzare progetti di investimento con i comuni, con le amministrazioni locali che devono essere supportate in questo lavoro. Noi siamo qui a Terramo dove il Sindaco si è dato un grande affare per proporre progetti di sviluppo. Il Partito Democratico vuole accompagnare e mobilitare le forze economiche e sociali, le forze produttive, le associazioni, il terzo settore, le reti di cittadinanza perché lo sviluppo deve essere capace di coinvolgere i veri protagonisti, poi gli attori che saranno i beneficiari di questa stagione di investimenti.